Lo sapevi che una delle ragioni per le quali tu oggi stai soffrendo è l'invidia, una delle più terribili malattie dell'anima. L'invidia ha il potere di distruggere la nostra vita, perché l'invidia è il marchio di fabbrica del demonio. Era infatti l'angelo più bello, ma l'invidia per Dio, di voler essere come e meglio di Dio, gli ha distrutto la vita. E' stato precipitato dal cielo, nell'inferno, condannato a vivere invidiando, cioè desiderando ciò che non è e ciò che non ha. Quante ragazze vivono schiave dell'invidia e quindi della gelosia, e la loro vita è un inferno, è sempre frustrata. Quell'altra è sempre più bella, quell'altra è sempre più fortunata, ha il ragazzo migliore, eccetera. E non è che i ragazzi siano da meno, ma anche gli adulti, anche gli anziani invidiano chi passa una vecchiaia migliore, senza tanti acciacchi. Invidia che genera gelosia, che genera a sua volta il peccato, che genera a sua volta la morte. Esattamente come il servo, malvagio e infedele della parabola di questa domenica. Perché a me un solo talento, e agli altri cinque o due? Che cosa sono io? Inferiore? Il padrone mi stima di meno? E questo che accade costantemente sui posti di lavoro, nelle famiglie, tra gli amici, eccetera, rispecchia la nostra relazione malata con Dio. Se invidiamo, se siamo gelosi, vuol dire che indirettamente, come questo servo, anche noi siamo ingannati dal demonio, e pensiamo male di Dio. Non lo conosciamo come un padre, ma come un padrone cattivo, che ci esige, ci tratta in maniera diversa dagli altri. Non ci vuole bene. Se leggiamo bene la parabola di questa domenica, capiremmo invece che, se il servo malvagio avesse trafficato con gratitudine il talento ereditato per il puro amore del suo padrone, avrebbe avuto la stessa identica ricompensa degli altri due. Perché non si tratta di quanti talenti abbiamo ricevuto, di come siamo, della storia, eccetera. Si tratta della ricompensa. Si tratta di essere partecipi con Dio della sua pienezza, del regno dei cieli. E quello è identico per tutti. Tutti siamo eredi di Dio, e cioè coeredi di Cristo. In cinque talenti, come in due talenti, come in un talento, c'è nostro Signore Gesù Cristo, che è la nostra ricompensa già qui sulla Terra. Allora, coraggio, perché il Signore viene anche oggi, come ogni giorno nella sua Chiesa, nella quale noi a poco a poco impariamo a passare dall'invidia alla gratitudine. Non dimenticarlo mai. Così come sei, tu hai un talento meraviglioso, irripetibile, unico, perché il tuo talento è Gesù Cristo, capace di moltiplicare la tua vita nell'amore e renderti pienamente felice, perché pienamente realizzato nel suo amore infinito.